Giuseppe Tittistama sarà ancora il coach del nuovo basket aquilano per il prossimo campionato di Serie C 2018-2019. Ha confermato infatti la sua permanenza sulla panchina bianco-blu. Di Tittistama, allenatore nazionale nato a Torino, in Piemonte, ma da sempre residente in Abruzzo tra Teramo e Roseto, sue città d'adozione, la società di Roberto e Paolo Nardecchia ha apprezzato, oltre che le doti tecnico-tattiche, anche la signorilità, l'educazione e il modo composto di porsi in campo e fuori, in linea con i valori ed i principi etici del club aquilano. La conferma di Stama, che ha guidato quest'anno il team raggiungendo l'obiettivo dei play-off e centrando un apprezzabile quinto posto, darà continuità al lavoro con la formazione Signores, che ha consentito al nuovo basket aquilano di lanciare in prima squadra negli ultimi quattro anni tantissimi giovani provenienti dal florido vivaio giovanile e dalla scuola mini-basket L'Aquila. Il coach Tittistama è dunque già al lavoro per approntare un roster che possa continuare a dare soddisfazione ai numerosissimi appassionati che ogni domenica affollano il Palangeli. Un torneo impegnativo, quello 2018-2019, che coinvolgerà squadre di tre regioni, Abruzzo, Molise e Marche.